La menzana torna a giocare al pala sport di Viale Sclavo, al pala estra di fronte al pubblico amico. Avversaria sarà Trapani, una squadra che ha avuto per tanti anni un destino comune a quello della menzana. Parliamo degli anni 90, dei primi anni 90 soprattutto. Ad oggi Trapani è in lotta per i play-off, in realtà lo sarebbe stando ai numeri pure la menzana. Menzana che però, giustamente ringrazio la regia che ci ripropone ancora una volta la classifica. Trapani, seppur a braccetto con Casale Monferrato e Rieti, sarebbe la squadra in ottava posizione, quindi oggi farebbe i play-off. La menzana è lì a meno 2, però in virtù di tutto quello che abbiamo detto appare abbastanza difficile un rientro nella lotta per l'ottavo posto. La menzana però deve guardarsi alle spalle perché ancora matematicamente la certezza di evitare i play-out non c'è. Domenica scorsa si è scongiurato il rischio di finire retrocessi direttamente perché perdendo Agropoli ormai c'è un distacco tale che non è possibile arrivare ultimi. Però in teoria se Scafati dovesse vincere tutte le partite da qui al termine della stagione e la menzana perderle tutte, è vero Mauro, è una cosa quasi paradossale. Ma tanto dobbiamo andarci con i piedi di piombo, un arrivo a pari punti fra menzana e Scafati premerebbe proprio Scafati e quindi andremo a fare i play-out anziché salvarci. Quindi partita Riccardo, fondamentale contro Trapani. Credo che la partita sia fondamentale per tanti motivi. Il primo perché dopo 5 sconfitte consecutive tutte le partite sono importanti. È evidente che giocare a Siena deve darci una spinta in più, prima dicevate del fatto che magari in casa possiamo avere qualche pressione in più. Dobbiamo trasformare questa eventuale pressione che poi in realtà alla fine nemmeno c'è così tanto in energia positiva come tante volte magari è successo e fare in modo che questa partita sia una partita dove dobbiamo vincere per forza. L'avversario è un avversario tosta perché la conosciamo, Trapani è una squadra che se la guardiamo sulla carta prendendo nome per nome è una squadra che ha delle grandissime qualità. Basta pensare agli americani che sono buoni tutti e due, Kedrick Mace l'ultima partita ha fatto i 36 con 9 triple, quindi insomma scarso scarso non deve essere. Queste sono le immagini della partita di andata. Esatto, dove tra l'altro siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo preso un parziale nel finale, guarda caso anche lì con un paio di canestre a tre punti di Kedrick Mace. E' una squadra tosta senza altro, però è una squadra che noi abbiamo il dovere di provare a battere sul nostro campo in una partita che vale molto per tanti motivi, anche per il motivo della classifica. Perché se è vero quello che dicevi, che Scafati dovrebbe vincere tutte e Siena dovrebbe perdere tutte per rientrare nel discorso play-out, è altrettanto vero che nei finali di stagione purtroppo per fortuna, poi dipende dai punti di vista, ma qualche risultato magari un po' più strano per situazioni di appagamento, situazioni di classico finale di stagione ci possono anche stare. Domenica prossima tra l'altro Scafati gioca in casa della capolista, sulla carta è una partita proibitiva, però ripeto la carta poi non va sul campo, sul campo ci vanno i giocatori. Noi intanto pensiamo a fare il nostro, facciamo una bella settimana di allenamento, mettiamoci lì con la testa, con il cuore, con tutto quello che è possibile mettere e battiamo trapani. Poi siamo tranquilli, a quel punto ricalcoliamo le ultime tre giornate e vediamo quello che succede. È ovvio che guardando la classifica qualificarsi per i play-off è abbastanza complesso, anche nell'ottica delle due trasferte difficili che abbiamo, perché dopo a partire in casa con Trapani andiamo prima a Tortona e poi a Biella, che non sono esattamente due campi facili. Però ecco, l'importante è mettere questo tassello e poi messo questo tassello ricalcoliamo con più serenità. Mauro, Riccardo, qualche accenno già alla squadra di Trapani, lo ha fatto, tante insidie, tanti buoni giocatori, fra l'altro una squadra che probabilmente era partita con qualche leggera ambizione in più, adesso sta proprio in linea di galleggiamento e come la menzana ha la necessità di vincere, allo stesso tempo Trapani vorrà venire a Siena a sbancare il palasclavo perché così può coltivare ancora questo sogno di play-off. Sì, intanto domenica ha battuto 106-105, una delle squadre, non dico una delle mie del girone, ma la Roma che ha battuto, una squadra assolutamente in forma. 106 punti dimostrano il grande potenziale offensivo di questa squadra, giustamente Riccardo... E ultimamente facciamo fatica ad arrivare a 70, forse solo un fatto di cifre sarebbe rischioso. Diciamo che anche se per grande diversità, però è un po' quello che abbiamo detto per Ferentino, Ferentino ancora di più perché è una squadra che probabilmente era attestata ancora sopra a Trapani, però anche Trapani è una squadra costruita bene con un criterio, un play-maze che ha molti punti tra le mani, un centro italiano, Renzi, che è sicuramente uno dei migliori... Devo dire che io mi stupisco che continui a fare la Serie A2, onestamente perché al piano di sopra vediamo dei giocatori, non dico imbariazzanti perché è cattivo dirlo, però un giocatore come Renzi in carriera avrebbe potuto, sì, avrebbe ancora margini per stare al piano di sopra, secondo me. Assolutamente sì, ha avuto delle esperienze forse non felicissime, problemi di carattere fisico, il problema al ginocchio sicuramente lo ha un po' stoppato nella crescita, però indubbiamente in Serie A2 è un grande lusso, sicuramente hanno patito il cambio dell'americano, cioè li si è infortunato Scott, è arrivato Crocket da Forlì, però anche quest'ultimo è un buon giocatore, a Forlì seppure una squadra con tanti problemi ha fatto molto bene e tutto sommato nell'ultima giornata sta facendo bene anche a Trapani. A questo aggiungiamoci Viglianisi che è un italiano ma di origine non italiana, cioè americana, per cui una squadra che veramente ha delle potenzialità di un certo tipo. Viene a Siena, se la mette con la convinzione è anche trovare Siena in un momento sicuramente difficile, quale questo è, e se la mette queste sono delle componenti sotto l'aspetto anche psicologico che hanno una loro importanza. È ovvio che Siena deve essere consapevole dell'importanza della partita, questa partita qui vale moltissima perché sarebbe, secondo me, la cosa più importante, il passo per conquistare con le nostre forze una salvezza che oggettivamente sarebbe anche meritata per quello che ha fatto a mezz'anno e anche per quello che oggettivamente bisogna dire ha sofferto questa squadra perché la sequenza di infortuni e anche di situazioni che gli sono andate contro sono state talmente tante che poi nella sostanza del giudizio, che per assurdo in questo momento può anche non essere perfettamente positivo, però va tenuto conto. Sì, probabilmente come dicevamo due settimane fa con Lorenzo Marroganti, che era qua nei nostri studi, il rischio è che poi, ovviamente imboccando un tunnel di sconfitte consecutive del genere, è normale che si crei un'opinione negativa, però al di là di questo il rischio è che poi negli occhi rimanga sempre l'ultima parte della stagione. Sappiamo benissimo che a dicembre, anche se già si era fatto male i cappelletti, probabilmente eravamo ben al di sopra di quelle che erano le possibilità e per quello che era stato fatto era una stagione super, ad oggi è verissimo che stiamo andando molto molto male e il giudizio potrebbe essere di una stagione abbastanza negativa, in realtà bisognerebbe riuscire a bilanciare queste due cose e valutare con una media come buona comunque questa stagione che partiva con l'obiettivo di salvarsi e facciamo i scongiuri, però oggettivamente la salvezza dovrebbe essere in tasca, però ripeto il rischio di imboccare ancor più questo tunnel negativo, il rischio che poi nell'opinione del tifoso, l'opinione pubblica, definiamola così, ci sia, rimanga in mente solamente quello che è successo negli ultimi due mesi, quindi da questo punto di vista magari vincere domenica e anche festeggiare in casa la salvezza potrebbe essere qualcosa di importante. Ho citato Renzi prima perché ricordavo, ormai parliamo di tanti anni fa, quando la menzana basket faceva un recrutamento molto molto importante sui giovani, quando Siena, la menzana ma anche la Virtus erano i due settori giovanili migliori d'Italia, ricordo una finale juniores giocata da menzana e Virtus a livello nazionale, quindi veramente eravamo al top, di aver sentito il nome di Renzi e anche il nome di Saccaggi, non era il Saccaggi che gioca oggi con la menzana, ma è il fratello, che è il fratello maggiore di Lorenzo, che erano impredicato di venire a Siena, poi invece prese le strade diverse, credo in troppo il viso su entrambi i giocatori, insomma mi ha un po' stupito questa carriera di Renzi, però al di là di questo affrontiamo l'argomento giovani perché De Candia poco fa ha fatto un accenno interessante ai premi federali che vengono dati alle società che nel corso dell'annata danno un minutaggio importante ai giovani, la menzana Riccardo da questo punto di vista è già una squadra costruita su molti giovani, quindi parte tra virgolette avvardaggiata, però ha la possibilità di rientrare a fine stagione su questi premi, no? Sì, diciamo che un po' per conformazione di squadra, un po' per merito anche dei ragazzi che si sono appunto ben distinti, hanno meritato di stare in campo, abbiamo in questo momento una situazione tale da poter ambire a raggiungere uno dei primi cinque posti che sono quelli che danno sicuramente anche un bel benefit di soldi importanti. È ovvio che ancora mancano quattro giornate, quindi è presto, poi tra quelli che giocavano di più c'era proprio Bucarelli che venendo a mancare ovviamente toglie un po' di minuti, Masciarelli l'ultima partita ha giocato, però bisogna anche considerare il fatto che non tutte le partite vanno a conteggio, ma alla fine poi la federazione a sorte toglierà delle partite, quindi bisogna anche vedere quali ti toglie, perché se ti toglie partite dove… Bucarelli ha giocato 20-30 minuti. In questo momento, dopo il turno di ieri, sinceramente non ho ricontrollato, però eravamo quinti fino alla settimana precedente, per cui in piena lotta, tra l'altro tra le squadre che fanno giocare più giovani, se non vado errato, c'è anche Reggio Calabria che qualora dovesse retrocedere cederebbe il posto a quelle che vengono dietro, quindi insomma ci siamo. Io lo dico sempre, magari quando capita di parlarne, è ovvio che poi quando sei la domenica lì non è che stai a dire allora te quanto hai giocato, 5-7, no, cioè in campo ci va e ci stacchi, merita di starci evidentemente, però trattandosi di un conteggio che tiene presente i minuti dei 96, 97, 98 o in giù, noi abbiamo alcuni giocatori che minutaggio ne hanno avuto, perché ho parlato di Bucarelli, però anche lo stesso Mascolo è un 96 che un po' di minuti in campo ci sta, Pichi qualche minuto lo ha giocato un po' in tutte le partite, quindi è ovvio che anche proprio, ripeto, per struttura di squadra siamo portati a far giocare i giovani come è normale che sia e come secondo me, dobbiamo sottolinearlo, è anche meritevole che sia. Ci sono squadre, per esempio, se non vado errato, anche la stessa Eurobasket, ora non vorrei sbagliarmi, ma comunque ci sono alcune squadre nelle nostre categorie che hanno pagato di più in federazione per non schierare i giovani a referto che invece sono obbligatori per il regolamento, c'è questa possibilità, c'è chi lo ha fatto, la menzana ha fatto una scelta diversa, a mio modo di vedere giusta, tra l'altro oltre ai 96, 98, 96 e 98, perché 97 non ne abbiamo, abbiamo anche dei 95, 2,95, Vildera e Cappelletti, che non rientrano nel conteggio dei minuti, ma che comunque sono under anche loro e quindi, diciamo, se devono essere premiate e da un punto di vista anche proprio di cultura sportiva, le squadre che fanno giocare i giovani, di sicuro noi ci siamo in questo lotto. Perché Mauro, poi vedremo quella che succederà nelle prossime giornate, vedremo quella che sarà il piazzamento della menzana, sono soldini, non tantissimi, ma sono soldini importanti in virtù della situazione che sponsor o non sponsor vive il club della menzana, che non è più un club che naviga nel loro, come succedeva negli anni in cui appunto si faceva quel reclutamento di giovani. Assolutamente sì, anche perché poi ci sarà anche da bilanciare, purtroppo è un computo finale molto sgradevole per una società come la menzana, cioè quello delle multe. E dei parametri, perché i parametri, purtroppo una società che è dovuta ripartire sostanzialmente da zero, ha perso, per cui voglio dire al di là di tutto può sembrare anche una gocciola, però molte volte è importante perché non consideriamo tante volte che nella vita di una società ci sono tanti aspetti che non sono solamente quelli che girano intorno specificatamente alla stagione agonistica, ma ci sono tante cose che chiaramente incidono e fortemente nel budget di una squadra, per cui tutto quello che si può in qualche maniera raccogliere e questo è meritorio perché il lavoro sui giovani è un lavoro meritorio proprio di concetto, ma è meritorio anche per quello che speriamo possa dare in futuro sotto l'aspetto di ritrovarsi giocatori validi per i prossimi anni, sperando che questi anni siano realmente improntati a una programmazione di questo tipo. Sì, fra l'altro dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi di Catalani che lo scorso fine settimana hanno battuto in quella Lega Internazionale, addirittura il Cesca di Mosca, quindi stanno facendo una grande stagione, poi magari vediamo se nelle prossime puntate avremo modo di invitare nuovamente Michele Catalani per parlare di questa avventura, di tutto quello che sta succedendo nel settore giovanile della Menzana, fermo restando il fatto che poi è stata fatta questa scelta di scindere un po' l'attività, di lasciarla in seno alla polisportiva e comunque è pur sempre un serbatoio importantissimo per la formazione bianco-verde. Siamo quasi in chiusura, Riccardo, abbiamo detto le prossime due partite dopo Trapani giocheremo a Tortona e poi a Biella, Biella ad oggi ha la possibilità, classifica la mano, di essere la prima in assoluto fra le 32 squadre ed è importante in ottica play-off perché vuol dire avere il fattore campo, se andrà tutto bene poi nell'eventuale spareggio contro l'altra squadra che arriverà. È una squadra credibile a tuo avviso nei confronti delle molto sponsorizzate formazioni che stanno facendo un campionato di vertice nell'alto girone. Beh, diciamo che la Coppa Italia un'idea ce l'ha data, nel senso che la finale fra Biella e Virtus Bologna è stata, al di là che è stata proprio una bella partita, però è stata una partita anche molto combattuta dove oggettivamente ha vinto la Virtus ma avrebbe tranquillamente potuto vincere anche Biella. Bologna giocava in casa. Bologna giocava in casa, la mia sensazione è che sia la Virtus Bologna che Treviso ma in particolar modo la Virtus Bologna sia un po' più lunga e forse quando si arriverà a giocare partite ravvicinate un po' più pronta magari per questo tipo di traguardo. Però Biella ha secondo me sei giocatori, anzi direi cinque, cinque giocatori di altissimissimo livello perché Yassmar Ferguson è uno dei migliori americani di tutta la 2, non ci sono dubbi. Mike Hall quando non impazzisce è un giocatore oggettivamente da Serie A buono. Devico è un giocatore importante, Udom lo conosciamo tra alte basi però in questa categoria è senz'altro un giocatore che può dire la sua, quindi a mio modo di vedere Biella ce l'ha cinque, sei giocatori per poterci provare. Fermo restando che a mio avviso Virtus Bologna è un po' più profonda, è un po' più lunga, è un po' più strutturata, forse anche treviso per competere su quello che poi alla fine è un altro campionato perché partendo dagli ottavi di finale capite bene che si tratta di dover rivincere un campionato e ripartendo non dico da zero però comunque dovendosi rimboccare le maniche e non limitarsi soltanto a uno scontro diretto, a una partita secca come invece avviene in Coppa Italia. Siamo in chiusura, domenica all'ora di pranzo, poco dopo pranzo hanno fatto vedere, ho visto su Sky o sabato, non lo so, comunque la partita fra Roseto e Fortitudo c'era un muro di gente al Palamaggetti di Roseto, speriamo prima o poi di tornare anche noi a vivere atmosfere del genere. Fatto questo inciso io saluto e ringrazio Mauro Bindi col quale ci ritroviamo dopo la partita contro Trapani che speriamo di vincere, in bocca al lupo a Riccardo Caliani in senso lato anche lui fa parte comunque dello staff del team Menziana. Basket Time torna la prossima settimana lunedì come sempre alle ore 21, buona serata a tutti.